Due provvedimenti all'insegna della legalità, così Paolo Romano, presidente del Consiglio regionale della Campania, ha definito l'approvazione della proroga della Commissione Antica Mora e l'adesione alla Marco Regione della Legalità. Così si conferma e si rilancia la volontà di improntare le proprie attività a contrasto della criminalità organizzata e alla promozione della cultura della legalità, della trasparenza, dell'etica e di fare sinergia con le altre regioni meridionali e con le altre istituzioni per rafforzare il sudo positivo e valoriale. La Commissione Consigliale di Inchietta Antica Mora è stata prorogata per altri sei mesi, approvata all'unanimità la delibera di proroga delle attività della Commissione presieduta da Gianfranco Valiante del PD. È servito quasi un anno per arrivare al risultato odierno, così ha commentato il provvedimento approvato in Consiglio regionale della regolarizzazione e realizzazione di impianti sericoli di vice capogruppo del Partito Democratico Antonio Marciano. Non sono mancati momenti di difficoltà prima dell'inizio della seduta prevista per le ore 14 che è stata ritardata per le questioni relative alla maggioranza. Stiamo trattando un problema spicoloso del subendolo al posto del consigliere Baldi o di Gagliani o di Gambino che sono nella stessa lista, nella stessa circostizione per cui non avendo tutti i pareri dell'avvocatura e tutti i pareri della prefettura stavamo chiudendo come proseguire perché abbiamo l'obbligo comunque di sostituire uno dei primi non eletti in questo caso qui. Gambino è stato sospeso per vicende giudiziarie. Gagliani invece naturalmente non ha nessun tipo di problema giudiziario ma Gambino era il più eletto nella lista della PDL nella circostazione di Salerno e quindi questo ci ha tenuti un poco impegnati fino a questo momento.